e ciao a tutti eccoci in questo nuovo video fifa mobile oggi siamo qua per andare a completare questo l'anello d'oro perché sono riuscita a ottenere altri di queste come vedete qua me ne manca uno solo e di questi volevo capire quanti se ne possono fare 1 2 3 4 5 non so come funziona per il forziera però perché credo che poi si possono completare una volta sola oppure quando è finito questo si rinnovano di nuovo queste poi si possono rifare perché vediamo che dice se dice ripetibile magari no non lo dice quindi noi andiamo subito a completare questo direi facciamo ottieni ritirapremio questo qua è il pacchetto andiamo subito ad aprire e troviamo questo qua dentro il tesoro sommerso 2 quindi adesso dobbiamo andare anche a completare quel piano là cioè no quell'evento e siamo a 2 completati quindi andiamo qua eventi live e andiamo a fare questo appunto che è tesoro d'oro si prende alla prima vittoria oddio come funziona ma così è facile nooo non ho fatto un errore dai sono stupido dai riproviamo a farlo stavolta ci devo riuscire non voglio voglio sbagliare di nuovo e sbaglio di nuovo oddio potrei finirlo grazie piano adesso ok completato meno male pensavo che lo sbaglievo di nuovo invece no ce l'ho fatta andiamo a aprire questo pacchetto qua che uno di quelli soliti infatti 2000 e poi andiamo a aprire questo pacchetto che sarebbe il pacchetto anello d'oro e ci trova quello da andare a mettere per il forziere infatti se noi andiamo ai piani adesso andiamo a precampionato qua possiamo aggiungere e ce ne mancano ancora un po' però quello il forziere non so se riuscirò a finirlo adesso andiamo prima qua a mercato andiamo a vendi tutti andiamo a gettone perché ce n'ho un po' di questi e li vendiamo 5.000 e prendiamo questo pure c'è un po' di queste qua però non complicherò niente perché ho tolto il tipo di cose di azzardo vabbè adesso andiamo pure a aprire molti di questi pacchetti partiamo subito ne aprirò un po' non so quanti però apro tutti i crediti quindi aprire ok giocatore oro 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 solo oro oro divisa 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 e xp centrocampista però mi servono quelle difensore quindi magari se ti muovi pure a darmele sarebbe una bella cosa oro oro divisa uuuh proviamo una maglietta quella di baines oro oro divisa oro marsello finalmente un fuoriclasse oro centrocampista mi serve quella del difensore oddio si 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 un altro flashback un altro flashback un altro flashback grande gioco grande gioco grazie grazie fernando torres un altro 93 vale un botto per forza vale vale troppo grande fernando torres e praticamente ci siamo rifatti i crediti del pacco opening quasi andiamo avanti vediamo qua Pogba oh questo pacco opening è epico abbiamo una maglietta Pogba oro un'altra maglietta Draxler oddio sta impazzendo oro oro un altro fuoriclasse oro oro ancora fuoriclasse oro oro e perché non vale nemmeno poco e anche XP centrocampista c'è due magliette tre fuoriclasse un flashback un'altra maglietta è più epico di quell'altro quasi quasi più epico ne ho un po' oro divisa oro divisa oro un altro fuoriclasse divisa oro 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 divisa divisa e oro dai procediamo che sta andando benissimo direi ne ho un po' troviamo divisa 2000 monete oro Ederson fuoriclasse divisa divisa oro oro divisa oro oro e oro e oro ancora un altro fuoriclasse pure qua quindi vediamo qua che troviamo oro oro centrocampista però mi serve pensore oro 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 divisa oro divisa divisa centrocampista e giocatore oro procediamo con questo vediamo un po' che troviamo oro 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 divisa oro divisa divisa centrocampista attaccante difensore perché non mi dai quelle del difensore ok non posso più aprirne però andiamo ai piani un attimo andiamo precampionato ci andiamo a fare un po' di questi che almeno due tre ne possiamo fare vediamo che troviamo nel primo xp difensore attaccante difensore bravo ah no solo uno ne potevamo fare quindi andiamo qua e andiamo a mettere questi due ci ne mancano tre solo adesso andiamo a eventi no miglioramenti andiamo qua un attimo andiamo ad aggiungere e ci siamo a un altro di questo da cento di pacchio vediamo che troviamo ok no faccio svelare tutto mi interessano vedere fuori classe uno no solo uno due tre eh sono un po' pochi però va bene comunque andiamo qua un attimo facciamo riempi ottieni ritirapremo mi hanno dato un bel po' di quelli oro però ed è una buona cosa undicimila oddio quanti mi hanno dato di oro è stato bravo il gioco stavolta vai vai forza cinquemila cinquemila questo e poi ne possiamo fare un altro solo andiamo vediamo che troviamo cinquemila riempi ancora ottieni ritiro il premio e vediamo che si trova qua settemila e cinque beh bene comunque andiamo giusto un attimo a mercato qua vendi oddio che bello quello torres uno due tre quattro e cinque siamo altre trentamila monete però non siamo arrivati di sicuro altri centocinquantamila no non siamo arrivati vabbè fa niente comunque se vi è piaciuto questo nuovo video che diciamo che è epico praticamente abbiamo completato quel piano poi abbiamo fatto un mega pack opening abbiamo trovato un sacco di fuoriclasse abbiamo trovato un flashback abbiamo trovato un abbiamo aperto un pacchetto da cento di quelli e quindi va benissimo per me e se vi è piaciuto questo nuovo video di Fibo mobile quindi in cui abbiamo fatto tantissime cose iscrivetevi e lasciate un like ci vediamo ciao a tutti ciao a tutti